Benvenuti a un altro laboratorio! Oggi realizziamo una trottola, avete presente le trottole? Ci occorre una matita, del cartone e della carta stagnola. La trottola è un gioco semplicissimo da realizzare ma molto divertente. Siamo pronti? Partiamo! Prendiamo il nostro cartone, gli facciamo un buchino al centro. Adesso decoriamo la nostra trottola prendendo la carta stagnola e semplicemente avvolgendogliela tutta intorno. Rifacciamo il buchino, prendiamo la matita e la mettiamo nel bufo. Ecco qua, la nostra trottola è finita! Adesso possiamo cominciare a giocare! Mi raccomando, ricordatevi di fissare bene la matita, altrimenti la vostra trottola farà fatica a girare. Buon divertimento! Ci vediamo al prossimo laboratorio! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.